L'ossa, qualche chilometro dalla stazione di lingua dell'ossa Sul treno del vino Sul treno del vino Questo tratto ci porta a lingua glossa Siamo con il capotreno Macchinista Macchinista Che si chiama? Rosario, che bella Rosario, lei in questo tratto quante volte lo fa a settimana? Di solito come turno cade una volta a settimana Come le dicevo poc'anzi Però all'occorrenza, secondo le esigenze che l'azienda Diciamo, secondo le necessità può capitare Potrebbe anche capitare, diciamo, anche due volte Raramente più di due volte Ed è un tratto che lei ama particolarmente? Lo amo particolarmente anche perché Diciamo, io abito proprio qui a lingua dell'ossa E poi è una tratta che per cinque anni mi ha accompagnato a scuola Perché andavo a scuolaggiare Quindi, diciamo, ogni volta che la percorro Rimembro il mio passato, la mia giovinezza Quindi è piacevole Poi come le dicevo Stiamo scendendo, andando verso il riposto Sulla sinistra si scorge la costa ionica, il mare Sulla destra la montagna, il vulcano Quindi penso che sono delle cose che tutti ci invidiano Ci invidierebbero